La mancanza di neve non ha compromesso la stagione dello sci. Grazie all'innevamento artificiale le piste sono sempre state sciabili. Quello che ha creato problemi è stato il vento che ha costretto a chiudere gli impianti proprio nel periodo di Natale. La stagione è partita in modo importante in quanto siamo riusciti già dall'otto, anche malgrado le scarse precipitazioni, a preparare le piste, quasi al 70% con tutti gli impianti aperti per il ponte dell'Immacolata. Dopo per Natale ci siamo presentati al grande pubblico, ai grandi vacanzieri delle vacanze natalizie con il 100% di impianti e il 100% di piste. Fino al 2 di gennaio le cose sono andate benissimo, in linea con lo scorso anno, addirittura con qualche numero percentuale maggiore. Abbiamo poi avuto il problema del vento che dal 2 gennaio per 11 giorni ha messo in difficoltà soprattutto la zona e soprattutto gli impianti in quota. che hanno condizionato l'apertura dei collegamenti e anche di alcuni impianti. Questo ci ha fatto perdere dei punti percentuali significativi in un momento così importante delle feste natalizie. Dall'Epifania sono arrivati i mercati croati, sloveni in particolare, oltre che romeni, i mercati degli stati ortodossi, quindi del Natale ortodosso, ucraini, romeni, eccetera. E adesso stiamo lavorando molto bene con la Polonia e la Repubblica Ceca. A questo punto della stagione abbiamo già investito tantissimi denari per l'innevamento programmato, come la nostra area, tutte le aree del Bellunese. Parliamo di investimenti globali che superano i 5-6 milioni di euro solo per la produzione e la preparazione delle piste in modo programmato, in maniera programmata. E i gestori o proprietari di rifugi cosa ne pensano? Il tempo non ci ha aiutato, soprattutto nella seconda parte, da Natale a metà febbraio. Noi speriamo di poter recuperare qualcosa, quello che si perde non si recupera, però speriamo, speriamo che la gente venga la voglia di sciare e di poter arrivare a marzo con un po' di sorriso in più di quello di adesso. E le piste erano al top, qui non si può toccare nessuno perché hanno lavorato veramente tantissimo.